Un gruppo di blogger provenienti da tutta Italia visiteranno i comuni biellese comunicando in tempo reale tramite Twitter, pareri ed emozioni sul luogo esplorato. E a Biella arriva il turismo digitale grazie a un gruppo di blogger che visiteranno ogni singolo paese del biellese comunicando in tempo reale grazie al social network, pareri ed emozioni sul luogo visitato. Anche gli abitanti del posto potranno partecipare con il loro smartphone. iLoc sarà il primo comune esplorato. Il turismo digitale approda le biellese e lo fa con dei blogger conosciuti nella rete web da tantissimi anni, grazie al loro passione dei viaggi, Gianluca Sgaggero ed Emanuele Lattarulo, insieme a un giornalista, Alessandro Dattilo. Grazie alla loro esuberanza è nata Explore Biella, appoggiato in pieno da ATL. Dopo l'esperienza di Biella Storia, il blog tour che ha portato 15 blogger alla scoperta di alcune delle bellezze della provincia biellese, il team di Swimstrip con l'appoggio del portale Italia Blog Tour inizierà questa avventura che porterà a scoprire tutti gli 82 comuni biellesi in rigoroso ordine alfabetico. Tutto questo avverrà in versione social, cioè permettendo agli abitanti del luogo visitato di interagire tramite i social network, soprattutto Twitter e Instagram, e magari guidare i blogger anche in luoghi meno conosciuti del comune. La prima esplorazione sarà domani nel comune di Ailoche. Dopo la bella esperienza portata da Biella Storia e visto il grande successo che ha riscontrato questa nostra iniziativa, fatta come avevamo detto per amore del territorio, quindi totalmente in forma gratuita perché per passione vorremmo che si parlasse di più del biellese, ritorniamo di nuovo a parlare del biellese con Explore Biella in collaborazione con ATL di Biella e Italia Blog Tour che rappresentiamo anche, come abbiamo detto prima, per esplorare nel vero senso della parola i comuni del territorio biellese. Ci siamo proposti di esplorarli in ordine alfabetico, siamo partiti con Ailoche che è il primo e nelle settimane successive daremo sul sito www.explorebiella.it le date che programmeremo perché non sono state fissate, non c'è un calendario vero e proprio, dove si potranno vedere le date, si sceglieranno dei fine settimana, dei weekend interi. Ci saranno due giorni a disposizione per ogni comune, due giorni perché non è che si impegni tutti i due giorni il comune o noi del blog per andarlo a visitare, semplicemente perché chiunque potrà con noi condividere il proprio comune, il proprio luogo, il proprio posto in cui abita sul posto con il proprio smartphone piuttosto che pc eccetera eccetera diventando fra virgolette blogger per un giorno e aiutarci a comporre questo grande fra virgolette mosaico che andrà a promuovere anche con questa nuova forma di promozione possiamo chiamarla 2.0 dei social media il biellese in generale. Cancelletto Explore Biella, seguendo questa parola su Facebook, su Instagram, su Twitter si potrà vedere tutto quello che viene prodotto in rete e che poi sarà raccolto in italiablogtour.it e presentato. E con questo è tutto, io vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e auguro a tutti un buon pomeriggio.